Ciao a tutti, 7 cose che devi mantenere segrete se vuoi vivere felice. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Allora, la prima cosa sono i dettagli della tua vita privata. Quello che è privato devi tenerlo veramente privato. Perché dire agli altri intanto può generare da un certo punto di vista il pettegolezzo, può generare le maldicenze. Le persone non vedono l'ora, spesso molte persone non vedono l'ora di giudicare, di avere delle maldicenze, di screditare gli altri. Possono esserci fenomeni di questa natura, per cui tu devi tenerti presente alla tua vita privata. Inoltre, tenere segreta la tua vita privata è la salvaguardia. La salvaguarda dà, diciamo, possibili intrusioni, possibili... Le persone parlando alterano molto la realtà. Quindi questa è una regola fondamentale. Se vuoi essere felice, la tua vita privata deve essere privata, non divulgata agli altri, parlare, eccetera, eccetera. Sì, le cose in generale, le cose superficiali, va bene, ma i dettagli importanti devi mantenerli privati. Devi mantenere privato anche le tue conoscenze spirituali, soprattutto evitare di dire, io, vantarsi di capacità spirituali particolari. Primo perché le depotenzi, secondo perché nel momento in cui tu ti vanti delle tue, come dire, conquiste spirituali, le perdi, tra virgolette. Perché la spiritualità, anche qua, richiede la riservatezza, richiede di tenere le cose nascoste. Nascoste. Esoterismo significa nascosto. E proprio a livello energetico ciò che viene divulgato si perde. Ciò che viene, è come dire, è come una condotta che deve trasportare dell'acqua. Se tu gli fai dei buchi, l'acqua la perde. E questi buchi rappresentano le parole, quello che tu parli, quello che tu dici della tua vita spirituale. Quindi mai e poi mai esternarla. Poi devi tenere a segrete le cose che ti generano, come dire, dei fastidi. Non devi lamentarti. La lamentela, fare la sirena, uh, mi è capitato questo, uh, mi è capitato quello, porta, diciamo così, ad essere considerato intanto a, nella comunicazione con te stesso o te stessa, a, diciamo, a creare delle profezie che si autoavverano. Poi, proprio per legge dell'attrazione, lamentarsi, avere paura di questo, avere paura di quello, produce proprio esattamente quello di cui ci lamentiamo, no? Quindi mai lamentarsi e agire, perché intanto un problema, se è risolvibile, devi stare zitto e risolverlo. Se non è risolvibile, non è un problema e devi avere la forza per accettarlo. Devi accettare tutto quello che non si può risolvere e avere la forza, invece, di risolvere tutto quello che si può risolvere. Altre cose di cui non devi parlare sono i tuoi progetti. Primo perché parlarne li svilisci un pochettino. Poi perché altre persone potrebbero magari avere dell'invidia o voler fare cose simili o comunque ritenere che tu ti vanti, percepirti come una persona arrogante. Quindi mai parlare dei propri progetti, delle cose che si pensano, di quello che si vuole in qualche modo portare avanti. Ancora peggio, come quinta cosa, parlare dei propri successi. Questo vuol dire andare a stimolare invidia nelle altre persone. L'invidia è un beleno mentale. Meglio, come dire, e poi, diciamo, è anche arrogante, tra virgolette. Quindi perdi anche poi potenziale nei confronti delle persone. Intanto non è necessario che tu ne parli perché poi le persone, come dire, che interagiscono sanno quello che uno fa, quello che uno non fa. Ma vantarsi dei propri successi vuol dire sminuirsi proprio le attività di altri. Vuol dire generare invidie, generare anche qua possibili maldicenze. E questa cosa qua alla fine si ritorce contro perché non sviluppa niente di buono, non sviluppa niente di positivo. E poi abbiamo la sesta cosa, sono le azioni buone, gli atti virtuosi. Ad esempio se uno fa beneficenza o aiuta qualcuno che ha bisogno. Quello devi tenerlo segreto proprio per una questione energetica karmica. Tutto quello che viene divulgato perde energia. Quindi questo campo di meriti che ti crei per campo di meriti, sono le azioni positive che facciamo, che creano dei semi karmici positivi, vengono, come dire, depotenziate queste azioni. Quindi il karma sarà un po' meno positivo proprio se vengono divulgati, detti agli altri. E un'altra cosa che non va mai detta è il raccontare del proprio passato. Il passato deve essere costruito dentro di noi. Intanto se una persona ti vuole conoscere sa esattamente che può, diciamo, tu sei un prodotto in qualche modo del tuo passato. Quindi andare a raccontare del passato o dei successi del passato ti porta comunque a vivere al di fuori del, potremmo dire, al di fuori del tempo presente. E quindi essendo proiettato nel passato poi si tende a, come dire, a vedere le nostre cicatrici come una ferita ancora aperta che ci potrà quindi indirizzare proprio verso situazioni dove la ferita sanguinerà ancora di più. Quindi mai parlare del passato sia perché, diciamo, è una cosa tua che devi tenere dentro di te, sia perché parlandone e lo reattive, come se andassi a risvegliare uno zombie, diciamo, che non vede l'ora poi di manifestarsi, di apparire, insomma. Quindi tienilo riservato. Ovviamente tutto questo in generale. Poi ci possono essere persone con le quali invece devi parlare di uno di questi temi per un motivo specifico, lavorativo, sentimentale, eccetera. Allora il discorso cambia. Però, in generale, più riesci a tenere queste cose segrete, molto meglio è per la tua felicità. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Taramasco, ed iscriviti ovviamente al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!